Musica Ai microfoni di Globus Television siamo ancora alla terrazza NH Hotel, sono con Agatha Patrizia Saccone e tra poco inizierà il Gran Gala di Tao Moda. Sì, ci siamo quasi, davvero siamo prossimi all'accensione dei riflettori al teatro antico di Tao Urmina per la diciottesima edizione di Tao Moda Tao Awards. Sì, 18 anni, abbiamo come dico simpaticamente raggiunto la maggiore età, abbiamo tanti ospiti che ci aspettano, non soltanto dell'universo fashion, quindi Mario Dice, Light Motive, Aquilano Rimondi e Salvatore Piccione, ma abbiamo anche i nostri maestri orafi che per l'occasione approdano per la prima volta sul palcoscenico del teatro antico di Tao Urmina e tanti altri personaggi illustri del mondo anche della televisione, del cinema, come ad esempio Anna Valle, come Isabella Adriani, ma anche imprenditori come Claudio Cutuli e tanti altri ancora che tra pochissimo vedremo sul palcoscenico del teatro antico di Tao Urmina, proprio per celebrare questo loro momento di premiazione. Una settimana intensa quella che c'è stata qui a Tao Urmina? Eh sì, una settimana intensa che si è svolta day by day davvero con grande successo, con tanti ospiti, da Catena Fiorello a Rosanna Lambertucci, per poi passare al sociale con il progetto Migrantes che abbiamo voluto sposare insieme al progetto Operation Smile. Insomma una settimana molto articolata, ma mi piace raccontare una cosa che mi sta molto a cuore, ovvero mi piace raccontare Gianfranco Ferré, perché quello che ha segnato questa diciottesima edizione e questa celebrazione del grande stilista che proprio quest'anno ricorrono i dieci anni della sua scomparsa, e praticamente la fondazione Gianfranco Ferré ha scelto Tao Moda per celebrare la nascita della fondazione e per ricordare il grande architetto della moda Gianfranco Ferré, per cui Tao Moda quest'anno si preggia di questo diamante importante che è il nome di questo grande stilista che ci ha lasciati fisicamente, ma che di fatto ha lasciato una grande eredità, un patrimonio culturale che celebreremo proprio questa sera sul palcoscenico del Teatro Antico di Taormina.